Adesso la parola passa al Consiglio regionale. La quarta Commissione Ambiente, presieduta da Mimmo Bevacqua, ha approvato all'unanimità la legge quadro in materia di incendi boschivi. Una normativa che la Calabria aspettava da tempo è divenuta urgentissima dopo i roghi che hanno devastato il territorio e la sua vegetazione durante l'ultima estate. Si è arrivati all'approvazione, licenziando un emendamento interamente sostitutivo del testo originario, che ha accolto una serie di suggerimenti e osservazioni emersi durante le diverse sedute dell'organismo consigliare. La legge si propone di mettere in campo una strategia pianificata su più livelli, come si evidenzia nella relazione illustrativa, e punta moltissimo sulla prevenzione e sulla lotta attiva, anche attraverso l'inasprimento delle sanzioni. Si predispone un testo che è sana, un voto normativo in Calabria di 17 anni, in quanto c'è una legge nazionale della 353 del 2000, e si pone l'obiettivo di regolamentare un settore, per me fondamentale, per lo sviluppo della Calabria, in quanto senza la salvaguarda del patrimonio boschivo, senza la salvaguarda dell'ambiente, non credo che possiamo pensare a una Calabria diversa e migliore. Quindi abbiamo ragionato molto su questa proposta di legge, ci abbiamo riflettuto in più sedute, dove ognuno di noi ha dato il proprio contributo, e credo che oggi il testo che abbiamo licenziato sia segni una bella pagina per questa commissione. Riccardo Tripepi per la CNews24